Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it, prosegue, sta quasi arrivando alla fine in realtà, il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro, abbiamo iniziato ormai un anno fa e in queste lezioni ci stiamo occupando dell'export, come esportare i contenuti creati con Premiere anche in questo corso, perché abbiamo fatto tante lezioni senza dire nulla sul come fare per tirar fuori i video che abbiamo prodotto in timeline. Bene, queste sono le lezioni che fanno al caso vostro. Nella scorsa lezione abbiamo visto come impostare l'export, quindi come selezionare un frammento di timeline per poterla testare, sostanzialmente abbiamo visto come scegliere il formato, i preset, come scegliere il nome del file, la destinazione, avere un riassunto di quello che stiamo per fare e quest'oggi vedremo come impostare il codec che abbiamo scelto. In questo caso abbiamo detto, abbiamo scelto l'H264, c'è poco altro da scegliere, però se avete scelto per esempio un altro formato, per esempio il MOV, quindi il QuickTime, avrete la possibilità di scegliere il codec da inserire in questo container. Ma ne parleremo abbondantemente, forse più avanti. Per il momento torniamo all'H264 e nel frattempo io vi ricordo www.fabioambrosi.it, questo è il sito internet da cliccare per leggere gli articoli connessi, legati a queste lezioni. Ovviamente c'è anche il corso introduttivo ad After Effects, se siete curiosi, è iniziato da poco, quindi siamo ancora all'inizio, è un corso introduttivo, non vi aspettate grandi lezioni su grandi effetti, ma per chi non ha mai messo mano ad After Effects è perfetto. Secondo me, iscrivetevi, mettete un like, no, su YouTube ci si iscrive e basta, quindi iscrivetevi a questo canale YouTube, cercatemi su Facebook, lì sì, mettete un like, alla mia pagina Fabio Ambrosi, tutte le novità finiranno lì, a mano a mano ovviamente che ci saranno. Bene, torniamo a Premiere, senza perdere troppo altro tempo, scegliamo il preset da impostare per esportare il nostro video. Allora, notiamo subito, no, forse è meglio che ringrandisco, sì, notiamo subito come qui, in questa sezione del pannello, esistono diverse tab. La prima riguarda alcuni effetti che è possibile impostare, ma noi oggi li saltiamo a pie pari. Nella seconda tab ci sono le impostazioni per il video, nella terza tab le impostazioni per l'audio, esistono poi altre tab che variano a seconda del codec che utilizzate, ma per le finalità introduttive di questo corso, ignoratele. È interessante la tab dei sottotitoli ed è interessante se avete seguito il mio corso, la mia lezione di qualche lezione fa sui sottotitoli, ne parleremo tra poco. E poi c'è la pubblicazione, perché nelle ultime release di Premiere potete pubblicare direttamente su Facebook, senza dover poi preoccuparvi di andare sul vostro profilo, mettere un file, caricare, scrivere... No, potete fare tutto quanto tramite Premiere, ma ripeto, lo vedremo magari in un tutorial ad hoc quando il corso sarà finito. Per adesso concentriamoci sulle impostazioni di base. Prima impostazione, la risoluzione, lunghezza, altezza. Avendone impostato il preset come sorgente, automaticamente queste opzioni sono già selezionate per allinearsi con la timeline su cui state lavorando. Se volete modificarle, c'è questo tastino a destra su ogni parametro che potete... Come si dice? Non spuntare, despuntare. Potete spegnere, via. Facciamo prima. Come potete vedere, potete modificare la risoluzione. Ipotizziamo di voler creare un video quadrato per Facebook o per Instagram, ok? Voi avete fatto la vostra timeline in 16 noni, anche se io vi ho fatto vedere come c'è la possibilità di creare dei video quadrati o verticali modificando la sequenza. C'è anche un tutorial sul sito sulle novità di Premiere 2020 che fa tutto questo in automatico. Però ipotizziamo che ormai avete fatto questa timeline 16 noni e non volete modificare nulla. Se volete solo esportare questo video così cos'è, così cos'è, così com'è in formato quadrato. Bene, modificando l'altezza e la larghezza e l'altezza potete ottenere questo scopo. Quindi per esempio 1080... Ah, attenzione, Premiere ha fatto già qualcosa. 1080 per 608. 608. Ma io voglio modificare, voglio fare 1080 per 1080. Ah, è tornato 1920. Perché? Perché c'è questo bottoncino premuto che collega automaticamente l'altezza e la larghezza in maniera tale da vincolarli all'aspect ratio che avete scelto. Allora io tolgo questo lucchetto e dico a Premiere, no, guarda, decido io come deve essere fatta la proporzione. 1080 per 1080. Olè. Abbiamo creato, come potete vedere, un frame quadrato. Se allargate lo vedete bene. Prima era 1920 per 1080. Quindi 16 noni. Avendolo modificato 1080 per 1080. Ok. Vedete che è diventato quadrato. Chiaramente queste barre nere ve le tenete. È chiaro che adesso non potete fare più nulla. Ecco perché consiglio sempre di lavorare bene prima in timeline. Però, torniamo all'esempio più classico. Via 1920 per 1080. Quindi un bel full HD come piace a noi. Vogliamo modificare anche la frequenza dei fotogrammi? No. Per me va bene. 25 possiamo lasciarla così. Per quanto riguarda l'ordine dei campi. Progressivo. Vi consiglio di lavorare sempre in progressivo. Tanto ormai quando girate con le vostre telecamere, con i cellulari, spesso e volentieri, girate in progressivo. Esporterete in interlacciato solo se ve lo chiederanno. Ma è un discorso a parte che non facciamo qui adesso. Lasciamo pure progressivo. Ecco, questa era la spectra ratio di cui vi parlavo prima. I pixel sono quadrati. Anche qui, complicata come storia. All'inizio di questo corso ne abbiamo parlato. Se volete recuperate quella lezione. Ma andiamo rapidi, altrimenti non finiamo più. Ignorate il resto. Importante, importante parametro da selezionare per l'export è il bitrate. Cos'è il bitrate? L'abbiamo detto qualche lezione fa. Il bitrate è la quantità di informazioni che volete mettere ogni secondo. Qui entrano in gioco discorsi complicati come la compressione, gli algoritmi dietro. Lasciamo perdere. Quello che a voi serve adesso per esportare è sapere quanti megabit dovranno andare ad ogni secondo del video. Perché dico ogni secondo? Perché la prima modalità di codifica è il bitrate costante. C-B-R Costant bitrate. Ovvero che ogni secondo verranno utilizzati tot megabit per comprimere il vostro video. E' chiaro che se andiamo totalmente a sinistra, quindi il valore minimo, il vostro video avrà una qualità molto scadente. E' chiaro no? Vedrete i pixel grandi come una casa, soprattutto se esportate in HD. E' chiaro che la risoluzione va di pari passo con i megabit. Se esportate un film in 4K non potete esportare un video per esempio a 10 megabit. Probabilmente di megabit per avere risultati buoni ve ne serviranno un po' di più. Se esportate per la televisione, quindi per la vostra televisione di casa, un video in HD, probabilmente dovete andare anche a 20-25 megabit. Se esportate per YouTube, che se non ricordo male ha un livello di bitrate che varia tra i 3 e i 6 megabit. Adesso non ricordo i dati precisi. Comunque sicuramente sotto i 10 megabit è inutile esportare un video in full HD a 30 megabit. Ok? 10 megabit per YouTube, 10-15 megabit vanno più che bene. Ricordate che ogni volta che un video viene encodato perde un po' di qualità. Quindi se voi pubblicate un video su YouTube a 10 megabit, YouTube fa ancora a sua volta una compressione. E' bene dare a YouTube un video di buona qualità per fare un lavoro ottimale. Ora anche qui non mi addentro troppo nei tecnicismi. Quindi sappiate che ci sono le specifiche su YouTube, per esempio, i consigli che dà YouTube sul bitrate che deve avere un video. Cercateli lì e attenetevi a quei valori. Non pensiate di guadagnare qualità pompando questo valore perché questo è vero fino a un certo punto. Da un certo punto in poi i miglioramenti sono così impercettibili che voi ad occhio non li vedrete mai. Quindi state attenti, fate un po' di prova. Quando lavorate in constant bitrate, qui in basso, vedete una stima di quanto peserà il vostro file. Ricordatevi che noi qui stiamo esportando un pezzettino di timeline, quindi solo 7 secondi. Vedete qui abbiamo, ed è un altro modo per poter scegliere un pezzettino di timeline, la timeline in qualche modo riprodotta. Se io volessi cambiare o aumentare il frammento di timeline da esportare, basta che modifico questo valore aumentando o diminuendo, per esempio. Valgono anche qui i tasti di scelta rapida I e O, mi sembra, sì, per l'in o per l'out. Vedete che ho modificato ed è chiaramente aumentato anche il peso del file. Lavorando a questo bitrate. Se io scegliessi un megabit al secondo, vedete che anche il valore della pesantezza, della grandezza del mio file finale viene scalata, viene diminuita. Esistono tanti altri parametri. Ripeto, servirebbe un corso ad hoc solo per l'export, ma per le finalità di questo corso introduttivo saltiamo a più pari. Rapidamente guardiamo l'audio. C'è poco da scegliere qui. Io in realtà raramente vado a modificare questi parametri. Il codec è da scegliere, l'AAC o l'MPEG, ma guardate, per un uso domestico, amatoriale, potete lasciare così. Importante che chiaramente vi assicuriate di esportare a 48.000 Hz. Questo è importante. Ovviamente esportate in stereo. La qualità. Io consiglio sempre di lavorare a una buona qualità, quindi alta. L'audio, state attenti, sotto i 128 kb si iniziano a sentire degli artifici nell'audio. Quindi evitate di andare sotto i 128 kb, a meno che non abbiate soltanto un file mono di sola voce, per esempio. Però diciamo che di norma 192, da 192 in poi va più che bene. Lasciate tutto così com'è, siete pronti per esportare. Come si fa? C'è un tastino qui chiamato export, esporta. Ci clicchiamo sopra e vediamo che succede. Premiere sta lavorando, esporta. Prima fa un mini rendering, perché chiaramente questa timeline è piena di effetti. Quindi prima fa un mini rendering per riallinearsi, dopodiché inizia l'export. Notate come io stia impiegando molto tempo in realtà, anche se ho scelto di esportare pochi secondi. Perché questa è una timeline piena di effetti, con video. Questo addirittura è un video in 4k da esportare. Quindi è chiaro che più effetti avete in timeline, più la risoluzione delle vostre clip sorgente è elevata. Più chiaramente la risoluzione della vostra timeline è elevata, più il tempo aumenta. È chiaro? Quindi occhio a quello che fate. Molti mi scrivono, ah ho comprato una telecamera in 4k, bellissima, ma perché mi va a scatti su Premiere? Eh, perché state lavorando in 4k, occhio perché il 4k non è il doppio dell'HD, è molto di più. State molto attenti, non esagerate con la qualità se non vi serve in altre parole. A meno che voi non abbiate una televisione in 4k e volete vedere le cose fighissime per qualche motivo. Per il momento, soprattutto se dovete condividere il vostro video con i vostri amici, l'HD, il full HD va più che bene, ok? È importante questo, l'economia, anche perché poi vi ritroverete con dei file giganteschi da archiviare e andate a spendere dei soldi, stavo morendo, anche per l'archiviazione, per gli hard disk. Bene, nella prossima lezione andremo avanti, perché c'è un altro tastino di cui non vi ho detto nulla per adesso, che è questo, Coda. Cosa fa questo tastino? Apre un altro software Adobe chiamato Media Encoder, che sostanzialmente permette di gestire tanti export contemporaneamente. Ne parleremo però nel prossimo video tutorial, nella prossima lezione. Per il momento io vi ringrazio, commentate questi video, vi prego di non scrivermi in privato se potete, non perché ci sia qualcosa di male, ma perché preferisco che se avete dubbi, domande, curiosità, qualunque cosa, la facciate in pubblico in modo che tutti possano leggere e magari si coglie l'occasione per rispondere alla domanda anche di qualcun altro. Nelle prossime settimane, lo dico, siamo a marzo 2020, per chi dovesse vedere questo video, diciamo, in futuro, tra qualche settimana vorrei iniziare qualche sezione live qui su YouTube, la sera magari, per permettere a tutti di fare domande in tempo reale, per provare a parlare un po' di Premiere con chi ha seguito questo corso in maniera interattiva. Lo faremo tra qualche settimana, quando avremo chiuso questo corso di Premiere, mancano poche lezioni, quindi per il momento vi ringrazio, iscrivetevi quindi a questo canale YouTube per seguire anche i live che ci saranno, ma seguitemi anche sul sito, daremo annuncio anche lì, www.fabioambrosi.it, ovviamente sulla pagina Facebook, non ve lo so nemmeno a dire, anche lì daremo tutte le informazioni, cercatemi, c'è Fabio Ambrosi, mettete un like e teniamoci aggiornati. Grazie ancora per il supporto, al prossimo video tutorial, ciao!